oggi la live la faccio da sola non è vero ci sono anch'io ma ci siamo? ci siamo? non lo so io il tablet ragazzi benvenuti a casa nostra benvenuti questa è una roba nuova raga un esperimento assurdo eh io non vi immaginate quanto ci ho lavorato per riuscire a portarvi questa live ora vediamo se si vede eccola che mi carica ok eccomi là che arrivo con passo per il patto ok ok guardalo lì ok ci siamo fammi sentire se si sente si sente si sente zitta e adesso non si si sente allora ora mi preparo la vostra chat la vedo abbastanza bene così allora ci dai un'occhiata tu magari allora ragazzi vi spiego cosa dobbiamo fare abbiamo davanti tre giochi da tavolo giusto? sì e dobbiamo scegliere da quale iniziare no e dovete essere non dobbiamo scegliere noi dovete scegliere da quale iniziare abbiamo a disposizione il tesoro del serpente occhio alla mano o cocco dentista e voi ci dovete dire quale dobbiamo scartare per primo poi dopo che ci abbiamo giocato un po' io non vedo l'ora di aprirli e anche questa qua mi ha rotto le scatole tutta la settimana posso aprirli posso aprirli no posso aprirli no posso aprirli e le ho messe sopra quel mobile lì e io li posso guardare ma non li posso toccare io leggo i commenti ogni tanto ragazzi quando ci vedete guardiamo qua sotto ma voglio che li guardi anche tu poi mi cade ciao a tutti sì allora quale tra i tre penso che gli sia appena arrivata la richiesta quindi cocco dentista occhio alla mano o il tesoro del serpente secondo me il tesoro del serpente è una figata perché dice quando gli occhi del serpente sono verdi avvicinati alla cesta io vedo un sacco di mano mano? allora mano è figo secondo me il gioco che sorprenderà tutti se il dito indicherà te dovrai essere pronto alla sfida quindi è tipo obbligo verità sì più o meno sì invece il tesoro del serpente non lo capisco devi tipo raggiungere la cesta del serpente e prendere qualcosa non ho capito e invece cocco dentista lo conosciamo tutti devi toccare i denti allora io vedo molti cocco e molti occhio alla mano c'è anche qualche serpente qualche serpente? no pochi ok ok allora io direi ragazzi io vedo tanti occhio alla mano occhio alla mano ok tanto secondo me due riusciamo a fare e allora partiamo con occhio alla mano che secondo me è molto figo e lo apriamo io 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 vieni ok ragazzi se questa cosa vi piace io spero di poter fare anche delle altre cose perché noi adesso sembriamo in un ambiente grande ma in realtà siamo nella nostra cucina salotto quindi potremmo fare anche delle live di cucina e lì raga lion che rovina tutto sa cucinare è ovvio infatti fa ridere allora non ci riesco ok ce l'ho fatta ok posso prendere io la mano è brutta che bella invece è fantastico allora sta live non è sponsorizzata io lo dico perché magari qualcuno pensa questi giochi li ho comprati io con i miei soldi non me li hanno ne mandati è arrivato un paccone gigante pieno di tutti questi giochi ok 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 che figo che figo che figo aspetta dov'è il tablet è qua guarda ci si vede ah non è non sta andando no non so se farla andare perché magari poi ci fa laggare se noi guardiamo la nostra stessa live però ci vogliono le batterie ci vuole un cacciavite il cacciavite eh guarda ma siamo pazzi eh allora io vado a prendere il cacciavite e io intrattengo aspettate un attimo allora intratteni eh intrattengo oltre alla mano che è orribile devo dire no no dai aspettila che fa male è una nerf fa male allora togliamo le cartacce oltre alla mano ci sono ma ci sono delle carte praticamente quando la mano ti punta tu devi pescare una carta e scegliere tra fare dire e penitenza ah si eh 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 tipo quello il gioco che mi piace le batterie le batterie ce le abbiamo perfetto credo di aver preso un cacciavite che non caccia ma si può cioè boh vabbè allora ma allora io quanto ho capito questa mano gira e se mentre gira cari dal tavolo Anna non trovo il cacciavite giusto non trova il cacciavite giusto dice dai non si può non si può allora leggiamo hanno scritto quella mano è di Bobba può essere può essere ce l'ho ce l'ho ciao allora apriamo un sacco di ciao Anna ciao ci siamo credo di sì dai io boh no ma veramente oh bisogna aprire fammi vedere la linea queste grosse ah che fai un danno un danno quante quattro tre ah tre non sai contare e tre ci siamo ma io ho paura no 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 tranquilla da un pugno no devi evitare ah se sfascia tutto ok ok ci rompe la mano ok ci siamo proviamo a accendere ci siamo ci siamo ci siamo ci siamo ci siamo così ah 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 la macchia si muove si muove non muore ah cos'è successo ma non lo so è facetta leva le cose ma smettila aiuto ma si dovrebbe fermare prima cosa eh certo ha indicato a te ha indicato a me ok però calmi adesso ah ah rip cosa hai fatto niente dobbiamo aprire le carte ma come si gioca l'hai capito si ok allora tu fai partire la mano lei gira si e mannaggia le carte quando si ferma punta qualcuno e tu devi scegliere se vuoi fare obbligo e vedi fare dire o penitenza ok smess vabbè non serve smestare troppo eh si però leggi un attimo se tipo devi pescare deve pescare chi viene puntato o qualcun altro no 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 leggi un po' punta verso uno dei giocatori prendi la prima carta la leggi e devi scegliere tra dire e fare ok se non svolgi correttamente tutti i rifiuti dovrai eseguire la penitenza ok va bene vai passami una carta no com'è che si gioca ma che passami devi iniziare tu ah eh si deve alzare marzo eh mamma mia posso fare fai partire la mano hai già partita indicato a te no no seriamente puoi fare un nuovo casino inizia tu tieni e devo pescare io allora devi leggere fare vai in bagno col giocatore seduto alla tua destra e lavagli i piedi no grazie che schifo fa dire ti alzi di nascosto per se ti alzi di ti alzi di notte per mangiare di nascosto no no aspetta forse un paio di volte l'ho fatto ma era facile questo dire fare era molto peggio col cavolo che ti lavo i piedi qual'era la penitenza ah fai finta di chiedere scusa a un giocatore di tua scelta come se gli avessi fatto un grave tolto e supplicalo di perdonarti eh ci vorrebbe ci vorrebbe forse a mano indica mamma mia quando fa così ve lo fa paura eh fa fa un rumore eh ma che è guarda com'è ma se per caso punta loro eh dovete fare eh ma secondo me non ci si ha puntato loro ha puntato loro allora la penitenza per i ragazzi a casa si però ferma eh ma non è penitenza dire e fare allora dovete scegliere tra far finta di essere king kong quindi tutti in chat tutti in chat a fare king kong oppure dire quando hai mentito l'ultima volta e a proposito di cosa l'ultima bugia che avete detto ok se non vi va di fare nessuna delle due dovete fare la penitenza che è tieni il broncio fino al prossimo turno cioè dovete stare ingrugnati cioè quindi spammate faccine tristi però potete anche fare finta di essere king kong che secondo me è piuttosto semplice si secondo me king kong è più facile è matto è king kong oppure fate un emoticon di una scimmia che anche va bene com'è? fanno finta king kong? fare dicono fare fare? e fate allora fa vedere vedi 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 sono eccoli eccoli arrivano i king kong che belli c'è anche qualcuno che dice che ha mentito alla mamma e roba ma tutti i king kong tutti i king kong è più comodo non dire cosa avete detto che mi gira io ancora non ho fatto penitenza quindi vai tocca a me è la macarena la macarena anzi questo è dammi tu cosita dammi tu cosita è l'amato dammi tu cosita mi sa che indica me eh per forza beh non credo che faccia tutto il giro eh mi sa che si farà tutto il giro no no se indica così sono comunque io sei tu? si sono io è lui guarda il ditone che ahhh si muove dai faccio pesca pesco fare è facile è facile fai finta di essere un pirata eh vabbè oppure dire qual è la tua miglior qualità eh vabbè penitenza disegnati una cicatrice con un pennarello era facile anche la penitenza ma comunque farò finta di essere un pirata vedete se ce la faccio eh YAR MARINAIA a che ora ti sei alzata nel boccaporto della bambusa? eh? non è abbastanza in bambusa in bambusa e tu a che ora ti sei alzata in bambusa? alle 10 e mezzo ecco vedi io prima di te ok ok andata bene vada a me vada a me io te l'avrei dipendata la cicatrice sulla faccia ma io comunque ho paura che ah sei già fermata? e lì sei tu sono io eh sì perché sei tipo un punta così sono i ragazzi così sono i ragazzi così sono io così sei tu giusto quindi tocca a me sì allora vediamo un po' fari scambia le tue scarpe con quelle del giocatore alla tua sinistra lulz che coloro mi dovete dare le vostre scarpe quando è stata l'ultima volta che hai regalato dei fiori a qualcuno? mai no non conta devi scambiare le scarpe vado a prendere le mie scarpe no non faccio nessuna non faccio nessuna eh la sinistra no ma voglio fare la penitenza mi sto mettendo le tue scarpe eh no questa ma no le mie no no me le rovini mi rovini le scarpe non credo che mi stiano ma è ovvio eh ho capito è il piede di un troll ehi no volevo fare la penitenza non la faccio più qual'era la penitenza? fai 5 smurfing diverse in 5 secondi in 10 secondi non la faccio più no le fai non le faccio più prendo il fucile no 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 le faccio e fai la smurfie smurfia no 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 ok allora smurf ok le faccio però mi devi cronometrare in 10 secondi vai ok secondo me le ho fatte 5 si ma secondo me le ho fatte 5 erano piuttosto simili l'un l'altra eh queste smurfie quindi se le ho fatte le ha fatte le valgono le ho fatte erano orribili per questo erano smurfie no? fammi vedere come si vede intanto si vede bello si vede bello dai guarda come sono bello sono grasso raga devo dimagrire porca miseria avete visto la maglia che le ho regalato alle ananas sopra guarda come ti sei staventata quando ho preso il fucile ok ma la smetti tocca il nome beh ah si non sa neanche far partire una mano silenzio toccherà sicuramente a me o ai ragazzi eh ha paura ma è un treno è un treno si fa tutto il tavolo grossi che sguinisce a te questi sono i ragazzi ah si eh si è proprio diretto tocca a voi tocca a voi si buona però fare tieni dentro la pancia per un minuto eeeh devi stare così tutti belli muscolosi forza dire chi è stata l'ultima persona che ti ha fatto ridere e perché adesso spamerando tutti i bambini dice sgrida un oggetto di tua scelta per 20 secondi ecco allora adesso voi prendete il mouse o il cellulare si e lo sgridate per 20 secondi non lo rompete però eh non lo rompete io sgrido la mano allora ma ti pare maniera tutta la mano allora che stai ad urlare tutto il giorno non sono un oggetto si che sei un oggetto aia sciocca in ogni caso avete fa fammi vedere quindi potete anche comunque tenere dentro la pancia eh molendo alcuni stanno tenendo dentro la pancia secondo me se sgridate l'oggetto va bene anche che sgridate il tablet con cui state vedendo la live e quindi in chat potete scrivere buzzurro l'ultimo che gli ha fatto ridere ho letto la mia mamma eh neanche tu la mia mamma quindi la la sua mamma è più spirituosa la sua mamma è in live in questo momento è più spirituosa di te e vabbè ma no ne hanno scritto Anna Puzza Anna Puzza si ma no devo premere di nuovo l'abbiamo io eh vai mano guardate questa stanno sgridando gli oggetti bene eh l'avrei fatto pure io eh questo sono io secondo me eh questo sono io e la smetti voi ti dovevano oliare mano la mano di babayaga eh è proprio lui è lui mamma mia quel dito te lo smoncico lasciala ah allora fare fai il verso del gallo ma a me hai sempre i versi ah eh è facile dire metti sempre tutto in ordine no grazie al cacchio no penitenza tieni per venti per trenta secondi una moneta premuta contro il muro con il tuo naso come cacchio faccio la penitenza vai una sfida accettata ma non si vede un muro dammi una moneta ma non si vede un muro faccio contro una scatola dammi la moneta non ho una moneta vado a prendere una moneta dove ce l'ho ce l'hai ho una moneta allora questo il muro e la scatola il muro e la scatola si tienila forte aspetta 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 ok per trenta secondi forte eh si uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici dodici tredici quattordici quindici sedici venti dici dici sette diciotto diciannove venti ventiquattro venticinco ventisette ventotto ventinove e trenta Eh, l'ho persa, va bene Ok, ok, va bene Poi, ma sei spento il condizionatore Eh, ogni tanto lo fa No, è ancora acceso, ma io sto morì di caldo Eh, fa caldo, sarà che c'è da te fa caldo Poi, vi andiamo di nuovo? Sì, vai, vai Ok Sì, a dimmi se deve fare sto panico Ok, ok, questi sono i ragazzi, secondo me Questi sono i ragazzi Non toccare la carta Non tocco la carta Teoricamente Tu e i ragazzi Ok, allora facciamola tutti insieme Tutti insieme e voi Allora, fare Imita il barrito di un elefante Eh, ma allora, a me i pirati e le robe, a voi tutti gli animali Eh, non sono capace Oppure Qual è stato l'ultimo capriccio che hai fatto? Eh, che volevi aprire le scatole, per esempio Volevo aprire le scatole Oppure Penitenza Sediti a gambe incrociate tenendo le mani sulla testa E resta così fino al prossimo turno Eh, la miseria No, 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 non lo farei che ti dovresti mettere sul tavolo No, sulla sedia Ma no, 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 no Non ci riesco Fai il gallo No, il barrito Vai Ma che cos'è? Lo so Devi fare il più convincente Non so fare Anche voi ragazzi, elefanteggiate Vai Come si fa? Eh, non lo so Fa tipo A posto, l'ha fatto lui È una puzza Regalato Oppure Hai un minuto di tempo Per formare la bandiera italiana Con i tuoi vestiti O quelli degli altri Questo è impossibile No, aspetta, aspetta Andiamo In realtà si, guarda I pantaloni verdi La maglia che potrebbe sembrare bianca È la mia maglia rosa È rosa, no No, no Comunque raccontiamo quello che abbiamo fatto ieri sera Con tono piagnucoloso Io potevo dire anche il regalo Cosa abbiamo fatto ieri sera? Ieri ho giocato a uo con lui Che no È vero Già, già i videogiochi Magno Voglio fare sempre i videogiochi E poi ha una puzza Che è? E tu hai finito tutto il tè Eh, ho bevuto il tè Era meglio dire il regalo Il regalo, vabbè Non siamo andati male, secondo me Tieni Premiamo di nuovo Tra un po', ragazzi Comunque passiamo a un altro gioco Io ne vorrei fare due per live Quindi, secondo me Facciamo ancora qualche round Faccio partire? Sì, io spezzo il mazzo Perché magari ce ne sono Di più difficili in fondo Ok, vado Bye E la mano balla E la mano balla E la mano balla E la mano balla E la mano indicherà I ragazzi o me E Anna Allora, io ti domando Com'è possibile Che tu Per qualsiasi cosa che fai Invento una canzone Inventi una canzone Sei tu Prendi Sono io Eh, sono io Jolly Ho un Jolly E che fa il Jolly? E il Jolly Posso ripetarmi? Dai Tita Carta Jolly Puoi decidere se giocare la carta Per sottrarsi Alla scelta Facendo questo Io non dovrò fare nessuna penitenza Quindi me la tengo E ne pesco un'altra Ok Allora Fare Di per venti volte Quanti anni hai Senza mai riprendere fiato No, grazie Dire Di che difetto Vorresti sbarazzarti Penitenza Metti Metti una scolapasta in testa Fino al tuo prossimo turno No Sì Non ce l'abbiamo Non ce l'abbiamo Non ce l'abbiamo Non ce l'abbiamo Anna non puzza Giusto Ora è finita Perché ha la scodella Questi siete voi Raga Mi sa Eh sì Sì Proprio voi Proprio voi Allora Sfida Sì buona Sfida un altro giocatore Ad un immaginario Duello di spade Cioè dovete sfidarvi A spade Tipo Se state guardando la live Ad esempio Con un vostro amico Con un vostro fratello No 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 Proprio in chat Sbang Sting Bang Strang Oppure Dire quando è stata L'ultima volta Che ho rigliato Una conversazione Da dietro una porta E cosa hai sentito Qui potrebbero venne fuori I segretoni Oppure La penitenza Fai finta di ballare Il tip tap Per 30 secondi Insomma anche come è il tip tap Tipo così No con i piedi Si fa molto di piedi Quindi Boh difficile Eh beh Queste sono un po' difficili Siano un po' difficili Quindi scegliete con attenzione Scegliete Secondo me Chi duello in chat O con chi vi sta vicino Non è male come idea Mi sta cadendo il cappello No no Devi tenerlo Beh lo puoi togliere A fine turno Perché era per il prossimo Fino al prossimo turno Al mio prossimo turno Al tuo? Eh sì Ah allora è terribile Eh beh Eh sì Mi dona almeno Ma sì sì Più o meno Più o meno Più o meno Secondo me ti sta bene Ok Eccoli che arrivano Sdang Sbang Sdring De bang De spade Guarda guarda Ah che bello Swang Sting La puzza di Anna Si sente fino a qua Ma non è bello Emo esagerati Vado Cattivi Framba Ma poi lo rompiamo No Io da piccolo rompevo i giocattoli Con un gusto Che non avete idea Questo sono io Allora Eh no No Gira ancora Sono comunque io però Sì Questo indica a me Allora Chiedi Buona Chiedi a un giocatore Bisbigliarti qualcosa all'orecchio Qualunque cosa ti dica Dovrai mantenere Un'espressione imperturbabile Oppure dire se hai paura del buio Oppure ripeti la frase Tre tigri contro una tigre Una tigre contro tre tigri Per cinque volte Il più velocemente possibile Farò la doppia cosa Cioè Entrambe Mi dici una cosa E io rimango imperturbabile Vai Ok Mi hai alitato tutto l'orecchio Non è vero Però non è Non ero perturbato Come non ero Ero imperturbabile Ero con un sorrino Tre tigri contro una tigre Una tigre contro tre tigri Tre tigri contro una tigre Una tigre contro tre tigri Tre tigri contro una tigre Una tigre contro tre tigri Tre tigri contro una tigre Una tigre contro tre tigri Tre tigri contro una tigre Una tigre contro tre tigri Mbam E vabbè Voglio molti punti Poi E vabbè Passiamo Un'ultima 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 Poi cambiamo gioco Da la mano Corre va E la mano E la mano E libera Vatemi togliere questa scodella Mi prego Sì Questa è a te Questa è a te Non è a me Questa è a te Vedi È a me Ok Te la pesco io Tieni Grazie Allora Fare Solleva da terra Il tuo vicino Di sinistra Per cinque secondi Beh la telecamera La puoi sollevare Sì Però poi me la scassi Quindi no Qual è la prima cosa Che compreresti Se vincessi alla lotteria Penitenza Mettiti sotto ad un tavolo E resta lì Fino al tuo prossimo turno Vai No per favore Però puoi toglierti la scuola Posso Grazie Allora Posso dire cosa vincere Cosa comprerei Sì ma poi devi metterti Anche sotto al tavolo Ma perché Vai Comprerei un pianoforte a coda Ok E una libreria gigante Va bene E un botto di peluche E poi andresi sotto al tavolo E un fortino di cuscini Che figo Ciao Un fortino di cuscini Ciao a tutti Sarebbe epico Ciao Anna Ciao No dai puoi risalire Però dobbiamo fare un altro turno Altrimenti Anna Porca guarda Cerchiamo di scittare In modo che Anna Venga fuori al prossimo turno Aspetta eh Sì Ora esci Aspetta Facciamo così Ecco Aspetta Ecco sei uscita Vai Sì sì Vedi il dito Te l'ho girata un po' Se no non uscivi eh Però Vieni vieni Allora Vieni Toccatelo a me Sì ed è terribile Mamma mia Allora No vabbè ma questo è troppo No voglio vedere Dammi Fare Indossa uno dei tuoi indumenti A rovescio Fino al tuo prossimo turno No grazie Qual è la cosa più stupida Che hai fatto quest'anno Quest'anno è iniziato da po' Cioè oddio No non è iniziato da po' Ne ho fatte tante Metti della farina Su un guanto di spugna E lavati il viso Questa è una roba Come cacchio fai a fare una cosa del genere Allora Qual è la cosa più stupida Che ho fatto quest'anno Vediamo un po' La cosa più stupida Che ho fatto quest'anno Infilati le calze E rimani così Fino al prossimo turno Sarà la cosa più stupida Che hai fatto quest'anno Sulle mani Sì Va a prendere dei calzi Corri Intanto Siccome questa mano Cioè l'abbiamo analizzata abbastanza Ma voi ragà l'avete vista bene Perché è bella Quella ve la faccio vedere Vedi lei fa tutto così con le dita No tutto Cadabrum 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 E va in giro Vedi va in giro Bella 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 Basta però Basta Silenzio Basta Eh Ci sei? Sì Col calzini nelle mani Vieni vieni Che passiamo al prossimo Allora Secondo Gli altri giochi Che avevamo pronti Sono Eh tanto sbaracchiamo la mano Se permetti Ok Qui Le carte Ma tu ora rimani così Fino a quando? Boh Allora Io Le ho messi Lo so che può sembrare assurdo Ma questi sono i miei cartini Che sono di Cibiusa Ora Ti sei l'ormone Ora 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 Togli anche le istruzioni Noi questi giochi ce li teniamo Comunque ridendo scherzando Perché Perché no Perché sono belli E poi voglio chiedere un'altra cosa Siccome vedo che comunque questa live vi sta piacendo parecchio Siamo in tanti E siete molto contenti Suggeriteci Che cosa fare nella prossima Noi abbiamo un'altra pila di giochi Sì Ok Allora tesoro del serpente O crocco dentista Cosa punti a noi Io invece sono da questo Io sono da questo Io voglio assolutamente vedere questo qua Perché è una figata questo Questo ti dice Ma questo bisogna stare in piedi Sì Sì Questo qui Sì Ah vabbè ma noi ci andiamo con le mani Eh no Devi partire da laggiù Ah ok Va bene si può fare Si può fare Si può fare Si può fare Questo secondo me è molto figo il tesoro del serpente Io preferisco questo Però Dicono molti il tesoro del serpente Anche il dentista però Serpente, cocco, serpente, serpente Anna Puzza di Buono Questo teoricamente è un complimento Allora Credo serpente Siamo un po' più dal lato serpente Sì Serpente, serpente, cocco Ok Oh ho stoppato il tablet No Posso togliere i calzini o caldo Sì puoi toglierli Grazie Ok io ho sete Eh 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 Ok togliamo cocco No Sarai per la prossima Prossima volta cocco Apri tu, apri tu questo Apriamo noi questo Il tesoro del serpente La miseria è chiusa Che cacchio ti prego Togli È un bis Non si apre Serve un coltellino o qualcosa Non ho niente Uno stuzzicadenti Ma che uno stuzzicadenti Si va di cattiveria Non sai proprio aprire le cose Guarda, guarda così Oltre che la mano della strega Dai Aspetta Ci penso io Fatto Va bene Ok Ma sei scemo E mi è comparso sto schifo Cioè ma ti fanno il jumpscare Guardate che cosa c'è Appena apri la scatola È il serpente Cioè non è che sia bruttissimo Però insomma Guarda che è schifo E vai via Vedete raga È il serpente Porca cutretto È poco brutto Oh questo deve essere molto figo Ah questo è il vaso Che bello È fighissimo Allora Sì ma tu lo sai come funziona Allora prendi le istruzioni A quanto ho capito Devi mettere le batterie innanzitutto Dov'è il cacciavite Un attimo che te lo passo Ecco qua Questa è una figata Allora A quanto ho capito Sul vaso va posizionato questo Che sarebbe uno smeraldo Una gemma Esatto Tu parti da lontano Devi cercare di prendere lo smeraldo Senza che il serpente salti fuori Eh ma lui in base a cosa salta fuori Alla vicinanza No è così tecnologico Sì Ci sono un fracasso di batterie Eh ma qua dice che devi stare almeno a tre metri di distanza Cioè qua sarà neanche un metro Beh se ci arrampichiamo sul divano vale Ma mi arrampico da nessuna parte io Ok Allora È questo è Fammi vedere Ci vuole una stanza di quattro metri per quattro Vabbè non importa ce l'abbiamo Ok Bisogna posizionare la cesta Mettere lo smeraldo nell'apposito alloggiamento Inserire il serpente E assicurarsi che il perno del serpente si inserisca nella scanalatura Praticamente ci dovrebbe essere questo affare Che tiene il serpente giù Che schifo Oh brutto Aspetta eh Ok Come si tiene giù? Tieni qua dietro Qua dietro Sì Tira giù Ah E lui Vomita fuori No Ma non ne sono sicura Sì ne No 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 basta mettere Non devi tirare niente Sei sicura? Sì Ma non è caricata la molla Aspetta No Anna sono sicura Aspetta mi sa che qua c'è tipo qualcosa per bloccare È un po' brutto Qua ci sono degli interruttori Anna Senti leggi tu che io non so Ma le ho messe le batterie le ho messe bene Forse no Ma non si accende? Ah Si accende si accende Metti la gemma Così Eh Ok Allora figo è figo però Non bisogna spremere giù Ok devo leggere io le strunzioni scusasse eh Allora Qua dice sì Eh Sì ma devi prima tirare giù Non devi tirare giù niente Abbassa la leva Sì lo devi fare Ma to Ma questa Vedi che non abbassa E perché? Allora dice Prima abbassa la leva No prima il serpente Messo Poi la gemma Messa E abbassare la leva Abbassa la leva Cronk E non abbassa Ragazzi hanno dato il gioco scassato? Sì ma così lo rompi davvero E non abbassa No Ma guarda che mi sa che è già armata la molla Dici? Eh Forse Perché qua dice Che poi la leva ritorna alla posizione originale Ma è questi interruttori qui? Non lo so Ah c'è lo start Ah Credo ci sia anche il volume E l'accesso spento Ok Credo Ah no Eh Quello il primo È il livello di difficoltà Ok E ora è a due Ok Metti sta cosa Ma guarda che secondo me non va così Qua c'è scritto Non tirarla perché si rompe Allora senti Vediamo se sto coso salta Uh Eh no Non salti? Dai è scassato Non è scassato Ah Posizionare l'interruttore su on E c'è Selezionare Messo Premere start Che è questo Per iniziare il gioco Non inizia No 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 È iniziato Oh Ma non è iniziato Dovrebbe partire un segnale sonoro anche Oh Forse ho sbagliato Le batterie Ma si è acceso E magari Io l'avevo detto Cocco No Ah Sì ho capito Abbi un attimo di cosa Forse il serpente era messo male Sicuramente Guarda Allora È inutile che leggi Devi fare Allora Queste giuste Le batterie sono giuste Sono giuste Ok Allora Calmi Questo secondo me è stato messo sbagliato Perché la molla non è caricata Aspetta Costruiamo i giochi con Lion Ce la fai Oh Porca miseria Ok ok Allora È un po' scassato Però ce la facciamo Ce la facciamo Ok Allora bisogna rinfilzare Eh Ma si chi se ne fai Oh Vai Fatto Fatto Ok Non ti muovere Ma dobbiamo spostarci Adesso In teoria Noi dobbiamo premere E lui si sveglia Ok Sì Devi premere start Devo premere start Aspetta Ma noi dobbiamo partire già in posizione Eh per forza Ok Ok Aspetta Anna stai a fare danno No 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 Hai spostato qualcosa No 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 Disgraziata Ti do una sparaflesciata E sei tu che vuoi farsi giochi strani No no Uh Quando è rosso non ti devi muovere Ma tipo bisogna Aspetta devi aspettare fino al segnale acustico Non ti muovere Mi stai stridolando il braccio Ferma eh Ok ora è partito Quando è che non ti devi muovere Quando ci sono gli occhi rossi Quindi ora Mi lasci Ma sei solta Ma solta Ma sei sicura Oh Porca cosa Che paura Che paura Che paura Che paura Mi hai fatto prendere un infatto Che paura C'è un po' Deve morire No 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 Che paura Che paura Che paura Di nuovo Quanta paura Esagerate Eh Aspetta puoi fare a me No No Vabbè Falo tu vai Io mi metto in posizione Sto qui La tua sedia Buoni eh Ok 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 Non so tre mesi Però dai uguale Vai Non mi devi toccare Ti vede Lui lo sa Prende per il sedere Ok Ok No Ah No Non ti muovere Vede Lui sa Ferma Ferma Ah Ah Oh Prende in giro Ma io non lo sa Ah Sta schifo Che fissa Cosa dicono Dicono che non vogliono il jump Che Ma ve lo faccio a voi Ah Ah Ok 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 Mettilo un po' più in là Che poi loro lo vedono Saltare il serpente Sì Vediamo che scrivono È filo Cacchio fa paura Non mi avete idea Vado Stavolta c'è Mettiamo il livello più facile No no più difficile Più difficile Aiuto Vedete Buona Silenzio Buona Silenzio Buona Cattivissimo Buona Cattivissimo Allora mettiamo più facile Mettiamo più facile Mettiamo più facile Ok Ma è pure tu che t'aspetti Fai un salto che sembri una cavalletta Speravo di fregarlo Sì ma cos'è Che ne so Il ballo indiano Ok Lui a volte ti vede Ma non fiata Ehi L'hai fatto cagare Perché ti sei rimossa Fai un salto più facile Fai un salto più facile Che paura! Ah! Non fa! E' troppo terribile! Ne proviamo di nuovo, stavolta ce l'ho quasi eh! Ma come si prende la gemma? E' brutta che la devi tirare su! Su? Si! E' complicato! Ok! Ma sto serpente! Ma cosa fai in quel cessino? Fa tutto sto casino! E' un serpente musicista! Ok! Non farlo scattare brutta cretina! Ci sto provando! Non ti muovere! 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 Ti sto provando! Me serpente! Per fargli un gestaccio! Serpente! Fetila! L'ho presa! Che bella! Wow! E' di plasticare, dalla gemma! Vabbè insomma! Era così secondo me! Però siamo riusciti a farlo solo nella difficoltà più semplice eh! Secondo me... Che dite? Doveva riprovare? Secondo me si è difficile questa volta! Piano! Ok! Quindi per favore niente salti dai le fai! Ok! Si è rotto! Devi fare start! No! Devo armare la molla! E' già armata! Non è saltato! Ah! E' vero! Sono sciocco! Vai forza! Ballo con lo viziatorio! Ma sono delle pecore queste! Il mammutone! Andiamo! Andiamo qui! Passetto passetto! Ok? Ok! Muoviamoci all'unisono così! Non mi devi toccare! E' più facile! Ferma! Non ridere! Lui lo sente! Lui lo sa! Lui lo sa! Aiuto! Ora salta! No! Si? Sì! Ferma! Non ridere! Non muovere un muscolo! Ok! Ferma! Aiuto! Ea! Vai da sopra! Da sopra! O da là! Ah! Giaia! Chiudo allora! Che paura! No no no! E questo muori però! Troppo! Noi con questo gioco! Tu non mi devi toccare! Mamma mia! Mamma mia! No 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 no! Mi schianti le costa! Aia! Perchè mica condosso e quindi stritolo! Porca cutretola che paura! Porca cutretola! Aia! Aia! Che cacchio fai? No! Aia! Ti serpenteggio! L'ho teso! Ma guarda Theo! Che paura! Che paura! Facciamo un ultimo round! Uff! Iaiaiaiaio! No! Non lo sai fare! Lassa fare! Non lo sai fare! No, non l'hai neanche agganciato So come fare So come fare Non mi devi toccare Ma se ci muoviamo insieme è più facile Non è vero, tu dovresti sconfiggere me Ma è impossibile Bisogna battere il serpente E mi tocca Ferma, ti tocco sul braccio Ferma Ha una presa d'acciaio Voi non lo vedete Ma lui fa gli occhi rossi e verdi Se sono verdi puoi andare Se sono rossi no Ma li fa sempre rossi Ma mamma mia che sia difficile Ma date la regolata, spente Piano, cosa pensi di fare Piano, piano, ferma Piano Sei fregata, ti tengo Te la do in testa Va bene, basta È infattibile Porca miseria che paura Quanta paura sto serpente Quanta Troppa paura Non lo sbagliare Non è sbagliare Ti sparo con la Nerf Gun Va bene Ragazzi Siamo in live da 45 minuti Secondo me possiamo concludere qua Anche perché è stata più faticosa Di una live normale E su Stremanto Stremanto? Stremanto Stremanto In ogni caso Mi fa piacere Avermi portato questa cosa nuova È un format a cui tengo molto Insomma Sono contento che vi sia piaciuto Mi raccomando Scriveteci nei commenti Se vi farebbe piacere Vederne una prossima Cosa vi farebbe piacere Vedere Se altri giochi Se challenge Se cucina Se quello che vi pare Decidete voi Decidete voi Per questa volta Vi ringrazio tanto a tutti Di aver partecipato E Lion e Anna Out Adesso Devo andare di là Posso fare questa cosa? Sì Almeno Spassimo devi tenerla Sì ci sono Delai Wow si vede benissimo Vai vai Out